L'Italia non è un paese a misura di piccole imprese. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA, secondo il quale, anche in merito alle tariffe di luce e gas, l'esito che emerge dal confronto con le grandi industrie è svantaggioso per le realtà minori. Per quanto riguarda l'energia elettrica, le piccole aziende pagano in Italia mediamente 151,4 euro IVA esclusa ogni 1000 kWh consumati, contro i 77 euro ogni 1000 kWh delle grandi. Praticamente quasi il doppio. In riferimento al gas, invece, il divario è ancora più pesante. A fronte di un costo medio in capo alle piccole imprese di 59 euro IVA esclusa ogni 1000 kWh, alle grandi aziende viene applicata una tariffa media di 21,2 euro ogni 1000 kWh. Come sottolinea la CGA, in nessun altro paese dell'area euro c'è un disallineamento delle tariffe energetiche così elevato tra queste due classi di aziende. Turismo nautico a gonfie vele in Italia. A fare il punto è l'ENIT, agenzia nazionale del turismo, secondo cui il bel paese conta 285 porti e 162.455 posti barca. L'offerta più numerosa è quella della Liguria, seguita da Sardegna, Sicilia e Toscana. L'Italia meridionale, isole incluse, dispone del 64,6% dei porti italiani. Il presidente ENIT, Giorgio Palmucci, sottolinea che nel 2020 i movimenti in imbarco e sbarco dei passeggeri nei porti italiani sono stati 32,5 milioni e presto si tornerà ai volumi del 2019. Le unità da diporto nautico iscritte presso uffici marittimi e uffici della motorizzazione civile sono in totale 95.611, di cui 18.296 in Liguria, 15.016 in Campania e 10.238 nel Lazio. La Commissione europea ha adottato una misura che consentirà agli agricoltori di ricevere maggiori anticipi sui pagamenti della politica agricola comune. La decisione mira a sostenere il flusso di cassa degli agricoltori colpiti dalla crisi di Covid-19 e dall'impatto del maltempo in tutta l'Unione europea. La misura consentirà agli stati membri di erogare aiuti al reddito e determinati regimi di sviluppo rurale agli agricoltori con anticipi più elevati, fino al 70% dei pagamenti diretti e all'85% dei pagamenti per lo sviluppo rurale. I pagamenti potranno essere erogati, una volta conclusi gli opportuni controlli, a partire dal 16 ottobre 2021. A reddito di cittadinanza accedono molte di quelle persone che non ne hanno diritto. Noi non siamo contro il reddito, però deve essere assegnato soltanto a determinate categorie, gli invalidi, gli ultra 65 anni che sono fuori dal mondo del lavoro. Il resto deve essere assegnato alle imprese che creeranno nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Solo così la disoccupazione diminuirà e avremo meno persone che preferisce stare a casa senza lavorare.